PEGI 12 Ora, più bello che mai. Kingdom Hearts arriva su PlayStation 3, in alta definizione. A settembre. Potrai rivivere l'esperienza di una serie indimenticabile, come mai prima. Potrai rivivere l'esperienza di una serie indimenticabile, come mai. Potrai rivivere l'esperienza di una serie indimenticabile, come mai. Potrai rivivere l'esperienza di una serie indimenticabile, come mai. Potrai rivivere l'esperienza di una serie indimenticabile, come mai.